La scomparsa di Marco Verticelli, l'uomo che è stato per decenni ai vertici della sinistra terramana e regionale, dal PCI fino al PD di cui fu anche segretario regionale, oltre che rappresentante istituzionale ed assessore regionale nelle giunte di Falconio e del Turco, ha lasciato tutti senza parole. Verticelli era da tempo malato e aveva lasciato la politica attiva dopo aver ricoperto con grande competenza, com'era nella sua preparazione politica e professionale il ruolo di presidente dell'ente porto di Giulianova. Unanime il cordoglio suscitato dai rappresentanti politici di tutti gli schieramenti, questo a testimoniare la figura di grande rilevanza che Verticelli è riuscito a creare negli anni. Un altro pezzo di storia che va via, ci dispiace anche perché sono persone che hanno fatto molto per il nostro territorio, hanno dato contributi culturali e politici e che hanno arricchito ovviamente il nostro partito, ma erano anche punto di riferimento per chi avviava un'attività politica o chi aveva bisogno di un consiglio. Non avevamo sempre le stesse idee io e Marco, ma ci siamo confrontati tante volte. Un bellissimo ricordo di lui perché oltre ad essere un grande politico era anche una persona sociale, gioviale, amava le conviviali, stare insieme e quindi era molto empatico, se diremo sicuramente la sua mancanza. L'orazione funebre alla presenza di tante persone svoltasi ieri è stata affidata a Pino Casalena, ex presidente del Ruzzo ed ex dirigente del Partito Democratico della Sinistra Terramana, che ha ricordato il suo legame con Verticelli anche al di fuori della politica. Non è che ci conoscevamo, ci frequentavamo da quasi 50 anni. Io avevo conosciuto Marco qualche giorno, qualche settimana prima del referendum sul divorzio, nel 1974. È stata una perdita molto grave, molto... D'altra parte le testimonianze, i messaggi di cordoglio e la vicinanza di tante persone, anche di persone con orientamento politico diverso, stanno a testimoniare dello spessore della persona.